Saranno quelli che vedete gli strumenti tecnologici che la polizia locale di Teramo da oggi in poi utilizzerà per accertare le infrazioni al codice della strada. Per intenderci, se prendiamo una volta per divieto di sosta non troveremo più il foglio che viene staccato da questo blocchetto ma troveremo quest'altro tipo di multa. Sì, sarà questo che andrà a sostituire i vecchi tre fogli di carta del vecchio bollettino al codice della strada che utilizzavano gli agenti accertatori sul territorio. Una scelta tra l'altro che una scelta verde perché green, perché rispetto ai tre fogli adesso ne abbiamo solo uno e in minima parte per cui sicuramente l'ambiente ringrazierà. Per il momento lavorerete con entrambi i sistemi? Sì, per adesso si lavorerà contemporaneamente ma penso che a regime verranno completamente eliminati i vecchi bollettari che avevamo in uso dal comando di polizia locale. Una nuova informatizzazione e dematerializzazione che comporterà comunque dei benefici sia da parte dell'utente del cittadino che da parte del comando di polizia locale. E in poche parole il cittadino che paga, il pagamento viene effettuato immediatamente. Così allo stesso tempo l'agente accertatore che effettua il verbale procede all'invio e immediatamente il comando ha la contezza dei verbali che si stanno facendo. Per cui un gran risparmio anche nel momento in cui si agisce col palmare e quindi le targhe vengono inserite con la tastiera alfanumerica è chiaro che vengono meno anche quegli errori che effettivamente anche se in minima percentuale però c'erano perché non si avrà più la lettera che viene interpretata male da parte del personale che sta in ufficio perché comunque ci troviamo di fronte a un carattere scritto con la tastiera.